Il deputato nazionale del gruppo misto, l'agrigentino Michele Sodano, è intervenuto in sede di dichiarazione di voto per esprimere la propria contrarietà al decreto sostegni bis, un decreto che, secondo Sodano, smantella gli aiuti messi in campo finora e permette ai rappresentanti della maggioranza di aiutare banche e grandi aziende e perfino di alimentare clientele. Grazie Presidente. Allora, naturalmente non venne notizia nei tg, nei giornali, ma eravamo solamente in quattro, io, l'onorevole Raduzzi, l'onorevole Trano e l'onorevole Villarosa, a cercare in Commissione Bilancio a dare un senso a questo decreto che voi avete chiamato sostegno all'economia, ma che noi abbiamo scoperto smantellarli uno per uno. Voi siete tutti d'accordo, solamente di facciata vi fate una guerra, ma poi avete scelto bene come dividervi questi milioni di euro e invece di aiutare il popolo avete dato, questo non l'ha detto nessuno, 30 milioni all'editoria, 7 milioni per nuove assunzioni al Ministero delle Finanze, perfino mezzo milione per abbassare l'IVA sui prodotti della caccia. Però i soldi per le cose importanti non c'erano, anzi per fare economia abbiamo smantellato un decreto dignità, impedito la proroga del contratto di reoccupazione, abbiamo cancellato la moratoria sui mutui, automatica, abbiamo cancellato un prestito garantito al 100% dallo Stato per i piccoli e medi imprenditori. Io ho capito la vostra strategia, voi vi nascondete dietro i successi di Roberto Mancini e dell'Eurovision e nel frattempo fate macelleria sociale e siccome non sarò complice di questo provvedimento dichiaro il mio voto contrario a questo decreto smantella sostegni. Grazie.